Upas, spoiler fino al 24 novembre, Rossella incontra la suocera. Fino al 24 novembre spoiler dicono che Rossella incontrerà la madre di Riccardo e sorprendentemente tra i due nascerà una bella sintonia. Per Nunzio sarà molto difficile fare i conti con i suoi sentimenti per il dottore. Ma la momentanea delusione di Aida la porta a trovare in Diego un prezioso aiuto. Infine, nasce un nuovo conflitto tra Mariela e Guido. La madre di Clovi arriva improvvisamente a Vulcano. Nasce un nuovo conflitto tra Riccardo e Rossella a causa delle loro diverse opinioni sulle questioni lavorative. Sorprendentemente, una donna misteriosa arriva al Vulcano, attira l'attenzione di tutti e alla fine si rivela essere la madre del dottor Clovi. Tra la donna e la futura Nora nasce subito armonia e tra le due nascono sentimenti del tutto inaspettati. Il legame tra i due però si approfondisce e questa donna si rivela una felice scoperta per Michele, anche se dà sui nervi a Silvia. Isabella causerà molta confusione anche nella scelta del futuro coniuge. Riccardo, invece, capirà, con molta esitazione, che sua madre è tornata nella sua vita per ricominciare da capo con lui. Nel frattempo, Nunzio ha difficoltà a realizzare i suoi veri sentimenti per Rossella, ma è anche scioccato dall'inaspettato comportamento amaro di Diana. Ma arriva un momento difficile e doloroso quando Viola ed Eugenio salutano il piccolo Antonio. Lara quasi cade nella trappola di Gabriella. Roberto Ferri e Marina Giordano vengono coinvolti nell'imminente liberazione di Lara. Ignari che Lara sta per cadere nella trappola di Gabriella Sevilla, che ha chiesto aiuto a Marina. Tuttavia, per portare a termine il loro piano dovranno ancora superare innumerevoli ostacoli, ma ad un certo punto il destino sembra essere a loro favore. Intanto Aida vive momenti di dolorosa disperazione, ma trova in Diego un sostegno inaspettato. Le cose non potrebbero andare meglio per Clara. La donna, infatti, è decisa ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio e resiste alla difficile decisione di Alberto. A sostenerla c'è la sua amica Rosa. Nel frattempo Filippo Sartori è alla ricerca di nuovi oratori da affiancare alle trasmissioni di Michele in modo da attirare più telespettatori. Alla fine, il conflitto tra Mariela e Guido si intensificherà ancora una volta. Infatti, i coniugi Bori cominciano a litigare dopo che la loro figlia Lollo ha avuto un piccolo incidente a scuola.